Sì, 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 adesso è un po' la... Però vediamo perché forse a ottobre è in questo certo tempo che non c'è un lavoro. Metto la fotocopta della pianuta a luci che abbiamo fatto ieri qua. Cerco di fare altri tre giorni, a ottobre. Grazie. No, noi qui stiamo cercando di fare come si faceva una volta. Sì, poi capirà, insomma, io... Allora... Allora... Una mano, lavoratori di lo spettacolo. Grazie. 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 Dobbiamo sciogliere i pezzi della prima americana e andiamo a calarci la prima americana che è... ...che è... ...alle scure... ...le scure della prima americana, e dopodiché dobbiamo decidere se usare questi tunnel per fare le stelline. Grazie. ...che piace. C'è qualcuno che ha scelto sulle stelline. Grazie. 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 di? Poi qualcuno deve andare su in cabina elettrica. Prima di calarla chiamate e noi diamo l'ok. Poi ti metti il momento più. Lo spingi e poi lo spingi. Allora, adesso chiamate e dite cara prima. Eh, ditelo però qua prima di parlo. Sì? Oh, scusate se è vero. Ok, va bene. Uno parla. Ancora. Aspetta Daniela, aspetta. Ancora. 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 Ok. Stop. Allora, qual era il tablet che non funzionava? Ok. Credo che stai con tutti. C'abbiamo qua, c'è qua dei tipi. Eh, però non ci stai. No, c'è più mostra. Ragazzi, sono stato ripreso. Giustamente, perché l'americana deve calare dritta, non deve per i pazienti. Per cui, teoricamente, voi due mesi. Stalla giù. Finché qualcuno che sta giù, che è quello che sta controllando, perché non ci sia un problema, mi dice stop. Ciao. 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 questo è questo, domani possiamo ancora la possibilità di lavorare tutti, però ci abbiamo, domani 23, 24, abbiamo la possibilità di lavorare come inizio, che significa che adesso che ci abbiamo, c'è pure mano, no no, sto parlando, possiamo iniziare a lavorare più intensamente, se iniziamo domani mattina qualcuno, come ha fatto la mattina Daniela che ha ripreso la macchina umana, la ripresa, ci possiamo anche fare dei momenti in cui riproiettiamo questa cosa qua, vediamo che il caso sta una comandata, secondo me, domani i nostri amici, la accettiamo a cominciare presto, prima di fare oggi, cominciamo a fare un lavoro, il chat però, con la paese organico, cominciamo a fissare i punti sui quali lavorare, perché il presto è vicino e se si ricordate tutti quanti, il nostro primario obiettivo è quello di arrivare a una guaglia dove ci sta il nostro corpo o il prodotto del Daniello Vecho, non solamente imparassi a fare il nodo, ma a fare tutto il nodo. Già, quindi, domani, se ne avete iniziato a lavorare su la creatività e l'organizzazione di questo periodo, che sarà anche il 30. Abbiamo capito altri parali di sera, quando c'era la visione di Contamino, magari domani, la prima cosa che facciamo, diciamo, guarda, io non mi avrei riportato quello che è il senso del lavoro, che mi vuole fare l'amico, e quello che poi, non è stato il prossimo. Sì. Quindi, noi oggi fanno quello che c'è da parte. Domani è a te, domani comincia alle 2.30, cerchiamo ad essere virtuali, magnati, caricati, partosceni, partosceni, partosceni. Che da domani non c'è stato il corso dei precisti, delle virtuali. Domani, non c'è, ma non c'è, non è altro, sempre sarà così. Un brazzo di stare, domani. Sembra di morarci. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Allora, domani c'è in mezzo a qua. Ok. Se qualcuno ha una vernetta, vedo, se non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. No, se però noi domani ci organizziamo col proiettorino, col computer, domani, come lavoro, con forma di lavoro, se io stai, neppure si accorre, domani, con forma di lavoro, potremmo cominciare a vedere quello che è stata la ripresa. se domani, se domani, se domani mattina ne continuate a fare le ripresi, magari facciamo un suono, facciamo un suono, facciamo un suono, facciamo un suono. Non lo so. Vai, sì, vediamo e mancaggiamo a cercare di loro. Ok. Però, ragazzi, bisogna capire che domani tocca lavorare sul pezzo di questa storia, che no, non c'è. Ciao. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. No, prego. Allora, magari, a Simone, se c'è molto, se c'è sempre la via, la scaretta e andasse a smontare i tre pc che stanno in quale, in quale, c'è il 500. Il programma è un'altra, 3 500 e il 3 domino. Eh, l'altro, il 4 500 che vi ha fatto. Noi direi, abbiamo fatto quello che volte è in sala. Ah, quello sta con sotto. Allora, bisogna andare a recuperare quel 500 e quello l'hanno passato ok e ma qui no io non voglio più vabbè, me ne sentono quattro e c'è, sì il pc e il secondo ok, sì ma qui che dobbiamo levare? allora, prendiamo il nostro disegno il nostro disegno vedete al centro allora, perché qua veramente ci dovevamo andare per il cinque no il nostro disegno è quello che vi ho è il nostro disegno non è un po' e quindi è un po' è un po' è un po' Grazie. 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 Allora, cosa da non fare mai quella che tu hai combinato? Cioè, prima va sempre levata la schiena, poi la sicura e poi... Allora, la roba che non usiamo, la mettiamo di là. Eh, ragazzi, la roba che non usiamo... Eh! Senti, ma ci vediamo che dobbiamo prenderci i mille. No, no, lasciate poi i mille. Però i mille vanno bene. Lascia sempre un po'. Ehi, no, non vi faccia. Sì. Ehi, ho messo questo mille. Ehi, ho messo il mille. Ehi, ho messo il mille. Poi c'è un'altra cosa... Grazie. 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 Sì, la forza un po', tira. Basta, troppo, troppo, lasciala un po'. Stai lasciando, prima. Attenzione, Laura. Laura, stanno salando un po' di cuore, eh? Ma adesso mi ha fatto ripostare un po' di cuore. Sì, la forza un po'. Polla da porco. Adesso è andata troppo in vento la terra. Senti che... Allora, no, stai tirando la porca adesso. Ok. Ragazzi, allora, adesso andiamo veloci. Dobbiamo andare a riprendere le corte mentre qualcuno porta a... Ok, piano, piano. Ancora un po' fino alla luce. Aspetta, si siede. Lineare deve essere, non interrompetevi, lo dico io stop. Andate su, vai. Allora, adesso andiamo veloci. Aspetta. Grazie. Ci portiamo con la prima. Stop! Oh, oh! Abbassa un po'. Beh, insomma. Abbassa un poco. Ancora? Ok, così, va bene. La terza è andata troppo in vento. Allora, come la terza è andata troppo in vento. Allora, la terza è andata troppo in vento. Allora, la terza è andata troppo in vento. Allora, cariamoci. La mandiamo ancora la data, questa è andata troppo in vento. Vira un po' la po', ragazzi. Ascoltate. Roberto, andiamo un po' spiace. Iniziamo la visione da dietro. Quando possiamo lavorare da dietro, perché siamo qua? Allora, dentro. Allora, dentro. Allora, iniziamo la visione da dietro. Attenzione che state sotto l'americana in casa. Cariamo. No, 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 no. Questa qui va anche italata perché fa sciolta. Quindi, cominciamo la sbagliata. Grazie. 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 Grazie.